mi hai promesso che stamattina mi portavi a traina hai fatto l'escaviva niente raffae stamattina niente calamari niente escaviva questa mattina ti porto a fare una tecnica diversa di parte a fare tra in a light la tecnica molto divertente bene vogliamo andare che è tardi perfetto andiamo ins grazie a tutti amici il motivo dei nostri video non è quello di dimostrarvi noi quanto siamo bravi o quanto non siamo bravi per meglio dire piuttosto è quello di rendervi partecipi e dimostrarvi come una determinata tecnica viene praticata in diverse zone della nostra penisola da qui nasce il motto vediamo qui come si fa grazie a tutti benzo come hai deciso che ci mettiamo in pesca allora niente adesso ci mettiamo mettiamo sia la strisciolina di calamari sia ciò delle seppioline ho portato delle seppioline inneschiamo anche queste seppioline qua facciamo una canna questa qui è un'altra canna mettiamo con la striscietta prepariamo il calamaro prendo il calamaro congelato i calamari sono congelati questi quasi sgelati che vendono in pescheria lo pulisco stesso in vasca che è più comodo lo priviamo della pelle ok e lo tagliamo lo battiamo un po in modo che lo rendiamo più morbido più succoso facciamo delle striscioline ok quello che inneschiamo innesco semplicissimo due ametti come puoi vedere sono due ametti piccoli però robusti perché qua poi può capitare anche questa è la sorpresa ci vuoi dire questa era la sorpresa spesso capita il pesce grosso anche i dendici non diciamo nulla ma aspettiamoci la sorpresa certo adesso inneschiamo pure la seppiolina sull'altra canna ma tra i beni questi sono tutti pesci foraggio e poi in effetti qui in mezzo ci possiamo trovare il predatore possiamo trovare sia la tanuta il padro possiamo trovare il dendice la cernia siamo su fondo roccioso qualche bella marcatura si vede speriamo bene eccola qua eccola qua amici democraticamente sono l'ospite quindi dovevo andare io alla canna ed eccola qua Raffaele facciamo una cosa recuperiamo un attimo le canne ci spostiamo un po' facciamo un giro contro corrente adesso lo facciamo a favore di corrente vediamo che succede poi eventualmente ci spostiamo di scoglio recupero Raffaele perché ho avuto delle testate piccole erano due pesci differenti prima è venuto a mangiare penso un pagro perché erano delle testate e poi è venuto subito dopo la tanuta piccola sempre ha mangiato però penso che si è mangiato l'esca o ha rovinato l'esca controllo ho mangiato anche a me però lo stesso penso si è portato via l'esca per il momento i pesci non sono attivi si stanno mangiando qualche pesciolino piccolino tanute piccole dobbiamo aspettare che cambia qualcosa se si mette un po' di vento non sappiamo com'è il fondo comunque noi ci proviamo infatti non ci siamo sbagliati non ci siamo sbagliati ragazzi sempre sulla strisciolina di calamaro innescata da Enzo mi ha fatto vedere un trucco lui non lo vuole dire ma dopo ve lo mostro bellissima tanuka bellissima tanuka ragazzi tecnica veramente molto divertente solamente che Enzo oggi ha deciso di farmi lavorare solamente a me un'altra bellissima tanuka un'altra bellissima tanuka e non stanno mangiando molto probabilmente perché l'acqua è scura ancora di più sotto a fondo ci voglio mettere questi due metti con un accorgimento con un piccolo polipetto che è un po' fluorescente siamo sempre a un 0,45 Enzo Enzo ottimo accorgimento però adesso mi devi innescare quella canna di nuovo tu con quel piccolo segreto ci facciamo vedere si no semplice basta che niente Raffaele a me piace innescarlo proprio bene perché deve navigare bene deve simulare veramente un pesciolino in fuga quindi uso tutti gli accorgimenti che posso usare quando vado a innescare lo piego pure il calamaro la piego e li faccio passare comunque l'amo dentro rinforzarlo in modo che quando mangio il pesce non se lo porto subito via ecco qua semplice semplice e quando naviga naviga abbastanza diritto Amici questo è il piccolo trucco di Enzo soprattutto in queste condizioni magari quando come diceva Enzo l'acqua è un po' più torbica e poi è un po' più torbica la piego la piego è un po' più torbica e poi il piccolo trucco di Enzo subito ha funzionato eccolo qui sta arrivando il chiumbo lo sganciamo un'altra bella danunda dai poi ci possiamo lamentare un bel pesce pensavo più piccolo che è un po' più torbica e poi è un po' più torbica Molto probabilmente ci sta il fatto che l'acqua è scura e quindi la strisciolina di calamaro è bianca, quindi è più visibile rispetto alla seppiolina, anche quello perché comunque la seppiolina quando io la utilizzo è veramente efficace, anche per predatori grandi, mi ha regalato tantissime volte visci grossi per la seppiolina così piccola. Però oggi il calamaro sta facendo veramente la differenza, la pastura, la strisciolina bianca è più visibile. Non è molto grande quindi la liberiamo questa. Diamogli la libertà. Ragazzi che divertimento la Trina Line, che divertimento. Ragazzi purtroppo si è slavata, doveva essere una bella danuta. Ragazzi mentre recupera Enzo la sua, ecco la mia. Enzo facciamo capire un po' ai nostri amici, qual è l'assetto da tenere, da seguire in questa Trina Light, perché da quello che ho potuto vedere, anche come velocità magari è veramente tutto simile a quella che è la più blasonata Trina Colvivo. C'è ragione, la stessa tecnica, cambiano soltanto un po' le attrezzature un po' più leggere, terminali un po' più sottili. Poi la stessa tecnica, piombo guardiano, io uso un piombo guardiano sui 500 grammi perché stiamo pescando su un profondità di 50-60 metri. Cambia soltanto l'esca, l'esca è quello che, i calamari che compriamo in pescheria. Quindi una facilità non indifferente di poter reperire l'esca. Quindi Enzo diciamo che tutto è uguale se non quello che è il complesso pescante è un po' più leggero. Un po' più leggero. Ho visto anche dallo strumento, ho visto che la velocità di Trina più o meno è simile. È la stessa, è simile, gli squat di pesca sono simili. Sono gli stessi. Solo i pesci, in effetti qui andiamo a insidiare pesci un po' di tutte le specie perché mi è capitato di prendere di tutto con questa strisciolina di calamari. Ho preso dalla Perchia al pesce San Pietro, al Dendice, alla Cernia. In effetti so che tu la consigli molto questa tecnica anche alle persone che porti solitamente a pesca, che accompagni, essendo Enzo una guida federale. So che consigli tanto questo tipo di tecnica soprattutto per le persone che si vogliono avvicinare come primo step a quello che è l'avvicinamento. Alla Traina Colvivo. Alla Traina Colvivo, sì. Divertirsi prima con un po' con questa tecnica light. Ancora un'altra cartina. Una piccola danuta. Facciamo in maniera molto veloce per cercare di liberarla sempre. Ezzo, questo mi sembra proprio un perfezio. Vediamo un po' che cosa ci ha regalato la serpio lì. Una bella danuta. Una bella danuta. Una bella danuta. Una bella danuta. Questa è un bel pesce. Questa è un bella danuta. Questa è un bel pesce. Bravissimo Raffaele, non mollare la canna, non mollare la canna, siamo sempre testi, l'aveva marcato le cose candaglie, ragazzi Enzo non si sbaglia mai, aveva detto, aveva marcato sulle cose candaglie dei pesci e guardate un po' la canna, speriamo bene, ecco la seppiolina riscatto della seppiolina Enzo, Enzo, mi hai detto della sorpresa, mi hai detto della sorpresa, ragazzi la sorpresa di Enzo, questa non è mia, ma è di Enzo Ragazzi, Enzo ci aveva promesso la sorpresa e così è stato, grande Enzo, grande Enzo, ora è arrivato il momento che mi devi e ci devi mostrare come realizzare un terminale per questo tipo di traina, parlaci dell'AMU, del terminale e del pre-terminale Va bene, allora iniziamo degli AMI, dato che pescheremo pesci di media taglia useremo degli AMI non molto grande, 2.0, 3.0, poi dipende dal tipo di marca, cambia un po' la tipologia, comunque sono piccolissimi, sono proprio piccoli, io li faccio con un terminale da minimo un 0.40 a salire a 0.47, oggi ho preferito, dato che è l'acqua scura, ho preferito con la speranza di prendere un pesce più grande, ho usato il 44-45, proprio perché come abbiamo visto che ho mangiato un tendice, c'è la possibilità di catturare qualche pesce grande, è peccato di dargli la possibilità di spezzare, faccio due AMI, uno scorrevole Ah, realizzi un AMO scorrevole, la differenza magari di alcune persone che usano utilizzare due o tre AMI fissi, Enzo utilizza invece due AMI e uno scorrevole Lo stesso terminale che uso per la trainacol vivo, lo stesso, è soltanto che cambia due AMI più piccoli e il terminale un po' più sottile, oggi abbiamo usato un 0.44, 0.45, proprio perché ecco qua, può capitare il pesce più grande, è peccato perderlo, un terminale di circa 2 metri, poi ci sta il filo, il pre-terminale che è montato sul multifibra, è circa un 8 metri peschiamo corto, quindi in tutto avremo una decina di metri di... massimo 10 metri, sì, peschiamo 7-8 metri di pre-terminale, un 0 a meno un 30 libre come pre-terminale? io uso a meno un 30 libre, non vado al di sotto perché dato che peschiamo sempre sulla roccia quindi potrebbe rovinarsi il filo e spezzare, è peccato, a meno un 30 libre che sono circa un 52-53 di diametro Enzo ci ha illustrato qual è il nostro terminale, mentre invece io vi dico, abbiamo pescato con i Talcana Caralis 16 e Caralis 20 come muri abbiamo utilizzato Gladiator Cub 40 Silver e Gladiator Cub 40 Auto imbobbinati con delle multifibra abbastanza sottile, 19 massimo 23 è stato un 0,5 metri di Ragazzi un altro bel pesce, ragazzi un altro bel pesce! Continuo a dare delle belle del mare Amici, la sorpresa di Enzo non era quell'altro dentice, ma secondo me era questo Grande Raffaele! Grande Enzo! Enzo, cosa al tragiungere su queste bellissime immagini? Traina light, due dentici, tante tanute, che divertimento! Veramente è stata una bella giornata oggi, ci siamo divertiti tantissimo Un grazie ad Enzo che ci ha illustrato questa bellissima tecnica e soprattutto se vi trovate in Cilento, amate la pesca, le emozioni forti Contattate Camerota Sport Fishing